72,42 milioni, Veranti 26,80 milioni, a Missaglia, per cui su una popolazione di 8.864, nel 2016 abbiamo speso 3,6 milioni, cioè quasi come il nostro riancio. È una cifra molto, molto preoccupante, tenuto conto che il reddito degli abitanti di Missaglia sono 23.000, cioè il reddito minimo, di 23.298 euro, per cui vuol dire che se la media del pollo che uno gioca una volta e gli altri vince, altri, vuol dire che investono parecchi soldi. Abbiamo sul nostro territorio 26 apparecchi, per cui una media di 3,5 macchine e un'inibitante. Nell'indice di virtuosità, che è un parametro da 1 a 5, noi siamo a 4, noi siamo uno dei comuni con più bassa diffusione.